Scorrono buone notizie sul principale corso d'acqua che bagna la provincia di Rimini. Si tratta di una sperimentazione biennale che partirà nei prossimi mesi e avrà l'obiettivo di potenziare la capacità ricettiva delle falde idriche del fiume Marecchia e incrementare la quantità di acqua immagazzinata da utilizzare in caso di fabbisogno estivo. La sperimentazione, secondo quanto riferisce l'ente di Corso d'Augusto, riguarderà il lago denominato In Cal System, vecchia cava situata lungo il fiume Marecchia al confine tra Rimini e Sant'Arcangelo. Da diversi anni il territorio della provincia di Rimini e più in generale tutto quello romagnolo è caratterizzato da stagioni estive di spiccata siccità con ripercussioni in tema di approvvigionamento idrico potabile anche nell'area del riminese dove le fonti di alimentazione sono costituite dalla diga di Ridracoli e dalle falde della conoide del Marecchia, falde che hanno la funzione strategica di riserva idrica qualora Ridracoli vada in crisi. Nel dettaglio la sperimentazione consiste nel far defluire all'interno del lago un volume di acqua stimato attraverso il canale dei mulini gestito dal Consorzio di Bonifica della Romagna e monitorare l'andamento dei livelli piezometrici dei pozzi e piezometrici presenti a valle. La sperimentazione convolgerà la provincia di Rimini, il comune di Rimini e il Consorzio di Bonifica della Romagna.